Ho comprato il mio primo cellulare con le criptovalute Ciao, sono Marco e benvenuto al mio canale Oggi sono stracontentissimo perché posso annunciarti con tutto il mio entusiasmo che sono riuscito a comprarmi il mio primo cellulare con le criptovalute Tutto questo è nato circa un anno e mezzo fa e ho scoperto il mondo delle criptovalute Mondo che non pensavo fosse così ampio, così proficuo ma anche così interessante Tutto questo l'ho scoperto grazie a Business Inbox Italia Business Inbox Italia, oltre a migliorarmi tutti gli altri aspetti della mia vita che coincidono con lo studio, con il digital marketing e comunque con tutte le opportunità che ci sono dentro il gruppo Mentor più che altro mi ha aiutato molto con le criptovalute me l'ha fatto conoscere circa un annetto fa e mi ha introdotto in questo mondo grazie al corso base di Crypto Learners e cui mi hanno introdotto nel mondo delle criptovalute e mi hanno spiegato come funziona tutto quello che riguarda le criptovalute da blockchain, dalle pool da comunque i wallet e tutto quello che riguarda più che altro gli spostamenti di fondi Binance, l'exchange e tutto quello che fa parte del mondo delle criptovalute sono veramente grato fiero e contento di essermi comprato questo cellulare il quale sto registrando con le criptovalute perché mi sono reso conto delle potenzialità che hanno queste monete digitali e soprattutto la fortuna la gratitudine di avere dei mentori fantastici come Lino e Mirko che mi hanno aiutato a capire le potenzialità di questo mondo ma soprattutto mi hanno aiutato nei miei investimenti loro mi hanno reso partecipe di tutte le monete che loro avevano comprato di tutti gli investimenti che loro facevano e grazie ai loro consigli sono riuscito nell'arco di un anno a avere delle rendite passive tramite criptovalute abbastanza considerevoli con poco budget ma soprattutto a mettermi i soldi da parte per potermi comprare questo fantastico cellulare che costa sui 400 euro abbondanti sono veramente contento e grato e volevo fare la mia testimonianza per ringraziare la scuola di Business Inbox Italia che ha creato un loro programma che è Business Inbox Crypto che se vorrai farne parte troverai il link qua sotto troverai anche il link del programma Mentor sempre qua sotto dove ti insegnano dove ti guidano dove ti danno tutte le news dove si mettono al 100% nei tuoi confronti perché loro sono le persone fantastiche loro tutto quello che sanno prima lo prendano comprano membership comprano corsi prendano testano vedono se funzionano e poi te le passano sono persone veramente fantastiche sono persone che mi hanno completamente rivoluzionato e cambiato la vita ma soprattutto sono persone care perché in giro e non visitanti non ci sono persone così non ci sono persone che ti danno consigli non ci sono persone che sono sempre lì non ci sono persone che fanno la media di 6 call a settimana fra i vari programmi che abbiamo nel Mentor il martedì c'è il programma c'è la call del programma Crypto dove ti insegnano dove ci sono aggiornamenti sui 7-8 guadagni che abbiamo nel mondo delle criptovalute fra cui anche Royal Q che te ne parlerò poi nelle prossime nelle prossime volte e tante tante altre occasioni quindi se vuoi fare parte del mondo cripto se vuoi capire come funziona questo mondo che entro 2-3 anni arriverà alla merce di tutti anche Visa frappolino metterà il pagamento in criptovalute anche Paypal l'ha già messo e a breve lo attiverà le grandi balene i grandi imprenditori del mondo stanno tutti acquistando criptovalute anche le banche stesse che fino a poco tempo fa denigravano le criptovalute stanno anche loro comprando e anche tanto tanti tipi di criptovalute tra Bitcoin Ethereum ADA e roba varia se anche te vuoi fare parte di questo mondo vuoi imparare per tutto cosa sono le criptovalute c'è il corso di Crypto Learners ti lascerò il link qua sotto troverai anche un 10% di sconto se vuoi imparare i wallet se vuoi imparare come funziona il mondo di criptovalute se vuoi imparare e vuoi investire in criptovalute in modo tale da poter avere rendite automatiche mensili e anche giornaliere ma soprattutto cominciare a investire in queste potenzialità che un giorno potranno schizzare magari come Bitcoin investire in monete prima di tutti perché poi un giorno magari potranno alzare veramente tanto di prezzo ti invito a descriverti al gruppo cripto di Businessbox Italia nel link qui sotto in descrizione ti dico che dal mio punto di vista non me ne sono mai pentito e mai me ne pentirò perché finora mi hanno guidato in una strada che mi ha portato oltre che serenità pace perché posso arrivare a fine mese con dei guadagni mi hanno insegnato a investire in criptovalute e sta andando sempre meglio grazie a criptovalute mi sto anche cominciando a comprare pezzi del computer nuovo mese dopo mese mi sto comprando sempre più pezzi perché alla fine comprerò il computer lo assumerò tutto insieme quindi ti invito se sei curioso o curiosa ad entrare in questo fantastico mondo iscriviti al gruppo cripto di business box italia e ragazzi di business box italia più che altro a tutti i mentor e a mir calino grazie 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 di questa fantastica opportunità ma soprattutto di avermi dato l'occasione di guadagnare grazie a criptovalute e di essermi comprato questo fantastico cellulare dal quale sto registrando ti ringrazio ancora per aver visto questo video ti ringrazio ancora per aver condiviso il tuo tempo con me ti invito se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e cliccare sulla campanella qua sotto a scrivere i commenti cosa ne pensi se sei curioso domande sulle criptovalute ti domanda scriviti sotto nei commenti io ti rispondo ti invito se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale di telegram che troverai sempre qui sotto dove all'interno oltre alla formazione oltre a scambiarci conoscenza per la crescita personale fra un po' introdurrò anche il discorso di criptovalute li farò vedere ai ragazzi come si guadagna con le criptovalute i miei guadagni personali cosa io faccio per guadagnare i termini di criptovalute e comunque loro nel canale telegram saranno informati di tutto quello che farò ringrazio ancora tutti gli iscritti al canale che state aumentando siete veramente fantastici e ringrazio ancora te per il tuo tempo che mi hai dedicato e ci vediamo al prossimo video grazie ancora Mirko e Lino per questa fantastica opportunità ciao alla prossima grazie 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 ancora per aver visualizzato questo video e per il tuo tempo se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e a cliccare nella campanella qua sotto e a scrivere nei commenti cosa pensi di questo video se l'hai trovato interessante se ti ha fatto venire dei dubbi perché perché io voglio farti venire i dubbi perché i dubbi portano alla curiosità e la curiosità porta alla conoscenza questo te lo dico perché per mia esperienza personale l'ho vissuto circa due anni fa quando mi sentivo un po' perso un po' dato da questo periodo un po' strano e non sapevo sinceramente dove andare e grazie a Business Box Italia mi ha dato una spinta nella conoscenza mi ha dato una spinta per cominciare a farmi un lavoro da casa lavorando online come digital marketer e anche fortunatamente mi ha fatto scoprire il mondo delle criptovalute e tante 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 altre cose se anche te sei interessato clicca nel link qui sotto sul webinar però non è questa la sede per parlarne la cosa più importante che mi preme tantissimo è che tu piano piano cominci ad aprire gli occhi e a capire che questo mondo è pienissimo di informazioni è pienissimo di di concerti di strategie ma soprattutto è pieno pieno di conoscenza l'informazione è l'oro è la moneta di questo mondo che sta completamente evolvendo alla velocità della luce quindi entra nel gruppo telegram che troverai il link qua sotto di essere direttamente a contatto con me con altri ragazzi del canale lì posto film che mi hanno aiutato alla crescita posto informazioni posto tutto quello che a me è servito per crescere per migliorare le informazioni che per me valgono veramente oro sei direttamente a contatto con noi se vorrai iscrivermi non c'è problemi io ti rispondo appena alla disponibilità cerco sempre di aiutare le persone che hanno bisogno e che mi chiedono una mano senza nessun tipo di problema senza nessun limite di tempo tranquillamente anzi è una cosa che adoro fare quindi iscriviti al canale e trova il link qua sotto non rimanere indietro stai sempre sul pezzo cerca sempre di aggiornarti e cerca sempre nuove informazioni ogni giorno perché questo è la base per l'evoluzione personale è la base per migliorare la tua vita è la base per migliorare te stesso perlomeno secondo la mia esperienza e secondo cosa sto vivendo io ti ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora ciao